L'ultima intervista della giornata, l'ultima band che si è esibita tra qualche difficoltà, diciamo così, il tempo ancora non lo controlliamo, il tempo meteorologico ancora non lo controlliamo, ma ci ha fatto piacere che avete deciso di esibirvi comunque e di farci sentire la vostra musica. Sinezamia, giusto? Esatto, sì, Sinezamia. Vuoi dirci se ha un significato particolare e qual è? Allora, sì, c'è ancora un po' di... la voce è rimasta là. Ma ci sta, è normale, normale. Allora, Sinezamia è praticamente l'accostamento di due parole latine, sine e zamia, ovvero senza pregiudizio. Che è una bella impronta, insomma. Sì, è già un'idea nata ancora prima della nascita del gruppo, quindi si parla di 11-12 anni fa. Il gruppo sono circa 10 anni che c'è. Quindi voi siete uno dei pochi gruppi, penso che almeno che conosco io, che prima hanno trovato il nome e poi hanno diciamo incominciato a... Sì, perché Carlo Enrico insieme agli altri ragazzi dell'epoca avevano un'altra band e io cercavo di smontare la loro band per iniziare a cantare con loro. Ok, li hai sabotati. E quindi due anni prima abbiamo formato il nome. Intanto arrivano degli applausi da dietro, oltre a che... è strano. Strano, esatto. Sempre da dietro. Sempre da dietro, esatto, anche stasera un po'. E quindi senza pregiudizio. Cioè, fondamentalmente ce ne siamo sempre sbattuti dei giudizi e di eventuali pregiudizi che la gente può dare nei nostri confronti e fondamentalmente cerchiamo di non avere dei pregiudizi nei confronti delle altre persone. Voi nei confronti. Mi sembra eco, quantomeno, se giustamente viene fregato un pochettino di quelli che possono avere, giustamente non ve ne dovete porre. Soprattutto visto il nome che vi siete dati. Il vostro genere, la musica che proponete, perché il vostro genere è la musica che proponete da dove viene. Sì, dai, da dove viene, via. Questo è un quesito che ci stiamo ponendo ancora noi stessi. Nel senso... Ma allora aspetta, te la cambio un po'. Pensi che siete riusciti a creare qualcosa di vostro che si stacca un pochettino dalle... Giusto. Il tempo questa sera, tempo atmosferico, non ci ha permesso di proseguire magari in altri pezzi, quindi far sentire a chi ci ha sentito per la prima volta un po' il nostro sound. Noi siamo nati con influenze, tra virgolette, dark. Quindi... Che poi è anche un termine abbastanza storpiato negli anni. Comunque, diciamo, un po' scure, cupe, fondamentalmente legate a delle situazioni proprio vissute anche sulla nostra pelle e molto sentite. Anche dal punto di vista... Sì, sentimentale. Infatti credo anche che i tre pezzi che siamo riusciti a fare questa sera siano stati molto sentimentali. No, è vero, è vero, perché non mi sono mai rovinato la voce in un'ora e mezza di scaletta stasera in tre pezzi ma la sono rovinata, quindi... C'era il sentimento. C'era pathos, c'era... C'era orgasmo, quasi. Spida. Meno male che hai detto quasi, perché... Quasi, quasi. No, no, ma va bene. Siamo fermati prima. Va bene, va bene, ok. Allora, una domanda che... No, 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 ma ci... Guarda, no, scusi, no, ti prego. No, beh, ma guarda che l'intervista è vostra, ma no, ma no, no, l'intervista è vostra, è giusto che la gestiate come volete. Dove vi possiamo sentire prossimamente? Allora, la prossima data ufficiale, quindi, che è fissata, è sempre qui a Mantua. Quest'anno abbiamo fatto più date a Mantua che fuori, un po' che per tornare all'origine. Quest'anno facciamo dieci anni di attività, quindi, visto che stiamo anche lavorando al disco nuovo, cerchiamo di tornare un po' in zona a riproporre la nostra musica. Ritornare a casa. Sì, esatto. La prossima è il 26 ottobre, suoneremo con un trio australiano a mio avviso molto valido, sono le Dark Shadow e l'Arci Virgilio di Mantua, quindi sarà una domenica molto intensa, quindi segnatevelo sui vostri taccuini, anzi, sui vostri iPhone. Taccuini era un po' che non lo sentivo, devo dire la verità. Bisogna tanto rimembrare qualcosa. Certo, certo. Taccuini era, anzi, era veramente un bel pop, però ci sta. Sono rimasto un po' retrosso. No, 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 ma ci sta, ci sta assolutamente. Il 26 ottobre è l'Arci Virgilio, poi altre sono in fase di definizione di stesura e non appena si hanno ufficializzate. Però ci hai messo lì un fermino dicendoci che sta uscendo. Stiamo componendo parecchio, c'è molto materiale e stiamo quindi visionando, ci stiamo scannando l'uno con l'altro. Che è il modo migliore per... Ci sono degli eliti incredibili, però questo penso che faccio parte di... Se poi siete insieme da dieci anni... Di ogni band... Ci sta. Cegniamo e beviamo un sacco assieme, quindi... E quindi... Si è sentito? No, perché se no glielo faccio la ripeto. No, no, davvero, grazie. Però ci vogliamo molto bene, quindi... Beh, ma immagino, immagino. E perché c'è troppo materiale, quindi non riusciamo a dire facciamo questo, facciamo quell'altro. No, no, ma l'importante è sapere che state continuando a lavorare, a produrre e... Si parla più di venti pezzi nuovi, quindi... Quindi un album bello intenso. Forse ne abbiamo per un po' di anni, ecco. Bene, bene, questo ci fa piacere. Dove vi possiamo vedere, l'abbiamo già detto, volete dire un canale dove vi si può trovare? Un Facebook, un canale YouTube? Il nostro sito ufficiale che è www.sinezamia.it oppure Facebook, quindi www.facebook.com.com.sinezamia. E poi tutte le varie piattaforme, più di venti piattaforme digitali, poi Bandcamp, iTunes, disco. Avete anche materiale video? Video? Video, avete dei... Videoclip ufficiali, ne hanno stato fatto uno anni fa di un vecchio pezzo, però nuovi, molto probabilmente faranno parte nell'attività di promozione del futuro album. Del prossimo che sta uscendo. Sì, sì, sì. Bene, se c'è qualcosa che volete aggiungere a voi, che io non vi ho chiesto, che vi ho... Ci sono delle domande? No, no, no. Ci sono domande? No, perché... È meglio di no, dicono. Ci sono, ma le domande ci sarebbero, però lasciamo perdere che... Va bene così. Esatto. Allora, ringraziamo e vi ringrazio anche per la pazienza, via, per la vostra disponibilità. No, beh, ma... Niente, Ciccio. Ciccio mi piace. Grazie. No, non potevamo non suonare, c'era troppa rabbia. No, no, ma infatti avete fatto bene. La gente che non ha niente da fare, c'è un più scherzo. Bellissimo, ragazzi. Dovevamo? Dovevamo microfonare lui e invece lui ha detto da subito... Perché siamo dei propagatori di noi, è incredibile. C'è anche se viene il temporale dove volete andare, capito? Esatto. Buona bevuta a tutti. Noi stiamo bevendo tantissimo da tutta sera. E quindi andiamo avanti. Beh, sì. Assolutamente. Poi dopo lì alla stazione ci sono gli sbirri, quindi fate un'altra strada. Girate di là, insomma. Grazie per... Mi raccomando, tengo le vostre patenti. La segnalazione è live. Ringraziamo, silenzia mia. Grazie a voi. Siete stati squisiti. Siete stati squisiti. Mantua Rising Sound. Ci vediamo la prossima.